Ciao, volevo parlarvi di un tema a cui come sapete sono sensibile. Parliamoci chiaro, questi oggetti qui oggi sono diventati una dipendenza. Anche per me, che nella vita ho fatto il pilota e so bene che rimanere concentrati alla guida è una condizione imprescindibile. Ma mi è venuta un'idea. Prima di mettermi al volante, tolgo la cover al mio smartphone, mettendola così, per coprire lo schermo. Facciamolo tutti, dai. Postate il vostro video. E' una piccola attenzione che potrebbe salvare delle vite.